Ciao, che cosa vi è mancato oggi? Al di là degli errori tecnici che avete commesso, al di là dell'avversario molto forte che sicuramente avevate di fronte, mi è sembrato che mancasse qualcosa nell'atteggiamento rispetto alla prima partita vista qui al Tardini. Sì, soprattutto l'atteggiamento. Abbiamo fatto una brutta partita, al di là di Milan che ha fatto la sua bella partita, noi non siamo stati capaci a mettere in campo quello che ci ha chiesto il mister, quello che ci ha chiesto lo staff. Questo vuol dire che noi dobbiamo lavorare tanto sulla mentalità e sull'atteggiamento. I cinque gol della Coppa vi hanno in qualche modo, secondo te, influenzato? Giocando a calcio, il calcio è anche questo, se puoi vincere alla fine tre a zero e mancano tre minute e fai tre a tre. Quindi non è la prima volta che una partita finisce 5 a 5, è come ti fai riprendere i cinque gol. Quello è sbagliato perché ce li siamo fatti da soli. Quindi quella era solo una conseguenza di oggi, praticamente. Rispetto a quando giocavi con la maglia del Sassuolo, oggi che Milan hai visto? Sicuramente oggi ho visto Milan più organizzato, più che cercava di giocare invece di lanciare. Ha fatto la sua bella partita, sono tutte ottime calciatrici, hanno fatto degli acquisti importanti. Oggi più di noi avevano la voglia di vincere, la voglia di portarsi tre punti a casa. Quindi loro sono state brave perché hanno, io penso che il Misty ha chiesto questa partita e loro hanno fatto quella partita. Il Misty a noi ci ha chiesto una partita e noi ne abbiamo fatto un'altra perché ci vuole mentalità e ci vuole atteggiamento. Cioè è quello che avete visto voi, da fuori si vede meglio. Cioè da fuori vedete tutto, vedete chi palla troppo, chi tira il piede, chi sbuffa, chi si vede tutto da fuori. Quindi è inutile nasconderci dietro a un dito. Dobbiamo solo essere umili e pensare a lavorare, ma non a chiacchiere o a fatti o su Instagram. Quei fatti. Io non sono social, non mi piacciono i social e soprattutto non mi piace quando perdo. Quindi la cosa che posso dire a me stessa e alla squadra, in prima a me, è di farci un bagno di umiltà e di pensare veramente a lavorare e a fare bene per il Parma. Posto? Grazie.